Buonasera, buonasera, ben ritrovati ai telespettatori di Antenna Sud, ben ritrovati nella nostra fascia di informazione Antenna Sera. Questa sera parleremo di migrazione, di integrazione e di tutte le tematiche a questa connessa, compreso in particolare il diritto di, quello sulla cittadinanza e sul diritto di voto agli immigrati. Per farlo abbiamo qui graditi ospiti in studio alla mia sinistra Asmi Giargiaui, segreteria della CGL Bari e in particolare conosce le tematiche di cui si parla oggi, si parla stasera e il segretario generale Pino Gesmundo sempre della CGL. Allora vi ho invitato perché oggi pomeriggio forse possiamo già iniziare a vedere le immagini, volendo c'è stata una vera e consultazione elettorale, si è chiesto agli immigrati che vivono e che risiedono a Bari di votare, di dire quanto gradiscono gli attuali amministratori comunali, l'aggiunta Emiliano, tanto per capirsi. Qui ci sono già le immagini che ha girato il nostro Dario, vediamole qui, qui avete introdotto l'argomento della serata, però voglio sapere subito quali sono stati i risultati di questo referendum, come lo chiamiamo? Abbiamo dato diritto di voto ai cittadini baresi che non ce l'hanno per legge, si sono espressi con un plebiscito nei confronti dell'aggiunta Emiliano, chiedevamo di esprimersi, era una provocazione, ma tutto sommato devo dire che ci hanno creduto, sono stati contenti di poter esprimere quel voto nei confronti giusto, di un aggiunto che comunque li amministra e che loro non hanno mai votato. Giorgiaoi, allora vedo, intravediamo dalle immagini cittadini, insomma stranieri di tutte le nazionalità presenti a Bari, no? Certo, c'erano gli albanesi, c'erano i cinesi, i filippini, i bangladesci, i maurissiani, i marocchini, c'era di tutto praticamente. Queste sono le operazioni di voto, però come abbiamo già avuto modo di dire qualche settimana fa quando abbiamo presentato questa iniziativa sempre con lei in studio, era soprattutto un motivo per non solo raccogliere le 50.000 firme famose, ma anche per sensibilizzare rispetto a queste tematiche, le vogliamo ricordare? Certo, noi praticamente abbiamo aderito a una campagna che è partita a livello nazionale con 19 associazioni importantissime, la Carta, la CGL, l'UGL, l'Ibera, Arci, le chiese evangeliche, eccetera, che praticamente hanno lanciato questa campagna per la raccolta delle firme per una proposta di due leggi di iniziativa popolare. La prima è la modifica della legge sulla cittadinanza, che è molto complicata, molto difficile avere la cittadinanza in questo paese, deve essere miracolata. Ecco, ricordo che lei l'altra volta mi disse che per i bambini che nascono qui, insomma, c'è da aspettare anni e anni prima di poter pensare ad avere la cittadinanza, subito dopo ci fu un intervento però del Presidente della Repubblica a questo proposito. Certo, che ha definito follia praticamente non dare la cittadinanza italiana a chi nasce in Italia. Anzi, c'è un'altra dichiarazione dell'Onorevole D'Alema, che ho letto sul Corriere della Sera qualche giorno fa, che mi è piaciuta moltissimo, per questo la cito. Sì. Praticamente ha definito assurdo che la moglie dell'ex Presidente del Brasile, Lula, che è di origine italiana di quinta generazione o di quarta generazione, è cittadina italiana solamente perché i bisnonni sono italiani e lei può votare in Italia, ma un cittadino che nasce qui, che non può votare. Un paradosso. Un straniero che lavora qui, che bagga le tasse, non può votare neanche le amministrative. Eh certo, certo. Allora, intanto saluto Isabella Maselli che è con noi e con la rete soprattutto, ha già lanciato qualche domanda all'internauto, è così Isabella? Sì, abbiamo segnalato proprio il tema della sera, cioè parliamo di diritto di voto alle elezioni amministrative per gli stranieri e stavo appunto scrivendo quello che i nostri ospiti ci hanno appena detto, su come si sono svolte oggi pomeriggio le consultazioni, chi c'era, per capire i nostri amici internauti cosa ne pensano. Ora, Gesmundo, c'erano i nostri amministratori, che io ho intravisto lo sito e poi l'Emiliano non si è visto però. Emiliano ha avuto un problema all'ultimo momento, comunque per la giunta comunale di Bari c'era la presenza di Fabio Lusito, che poi è l'assessore che si occupa dei temi dell'accoglienza. Peraltro c'era anche l'assessore Frantoiani della Regione Puglia, che si occupa anche lui dei temi dell'accoglienza, quindi diciamo, le istituzioni non rappresentate. Devo dire che inizialmente avevano pure qualche timore rispetto al risultato elettorale, poi insomma anche lì, quando poi è uscito il risultato, sono stati contenti anche loro, poi bisogna dire che in effetti l'aggiunta Emiliano, così come Regione Puglia, su questi temi si sono spesi molto. Diciamo che hanno sottratto pure risorse ai cittadini baresi, se vogliamo, facendo una scelta politica anche coraggiosa in un momento delicato come questo. Però là c'è un mondo che ha dei bisogni enormi. È chiaro. E quali sono i bisogni immediati, Giorgio, per gli stranieri presenti sul territorio ibanese? Più che altro gli stranieri che arrivano hanno bisogno di tutto, praticamente, quelli che arrivano, che scappano dalla guerra, che chiedono l'asilo politico, la prima accoglienza è necessaria. Ma in linea di massimo bisogna fare un salto di qualità sulle politiche dell'integrazione. È vero che il Comune di Berra ha fatto moltissimo, la Regione ha fatto moltissimo. Bisogna fare un salto di qualità. Bisogna che l'immigrazione entra nella mentalità delle amministrazioni, mentre fanno le cose per i cittadini, le devono fare per tutti i cittadini, pensando anche agli immigrati, magari per esempio i servizi. Devono capire come gli immigrati possono accedere ai servizi, quindi i servizi in qualche modo devono essere personalizzati. Questo qualifica i servizi per tutti. Eh certo. Certo. Allora, intanto per quanto riguarda il nostro notiziario dobbiamo dare qualche notizia importante, perché quella di oggi è stata davvero una giornata particolare per un'operazione che ha portato avanti la Guardia di Finanza, quella di Taranto, ha sgominata praticamente una organizzazione trasnazionale dedica al traffico di rifiuti speciali. Insomma, gomma, pneumatici che una volta raggiunto il sud-est asiatico, la Cina in particolare, potrebbero essere stati utilizzati per la produzione, pensate, di biberon per i neonati e giocattoli che poi invadevano, invadono il mercato italiano ed europeo. Sentiamo il servizio. Un traffico di rifiuti speciali di dimensione globale. 1.507 container esportati dall'Italia verso paesi del sud-est asiatico per un quantitativo di 34 milioni di chili. Materie plastiche, gomma, pneumatici. Nella maggior parte dei casi rifiuti speciali non erano stati oggetto di alcun trattamento preliminare e potrebbero essere stati utilizzati come materia prima per la produzione di giocattoli, articoli casalinghi, biberon e prodotti sanitari, destinati poi alla commercializzazione sull'intero territorio italiano ed europeo. Soltanto oggi, nell'ambito dell'operazione Gold Plastic della Guardia di Finanza, sono stati sequestrati nel porto di Taranto e in altri scali marittimi italiani più di 2 milioni e 600 mila chili di rifiuti speciali, pronti per essere spediti nel sud-est asiatico in 114 container. Numerose le perquisizioni e i sequestri seguiti dalle fiamme gialle nei confronti di 21 aziende per un valore complessivo di 6 milioni di euro. 54 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP di Lecce nei confronti di appartenenti, anche cinesi, all'organizzazione transnazionale dedita al traffico di rifiuti speciali. È un'importante operazione, forse la più grossa che sia stata finora portata avanti in Italia, che interessa non soltanto Taranto ma anche altre 15 regioni italiane. Ed è un traffico, riguarda un traffico transnazionale di rifiuti, destinati in paesi del terzo mondo e principalmente in Cina, con container, ma un traffico di una rilevanza enorme. Insomma, davvero una grossa operazione che ci tocca un po' tutti. Io intanto saluto perché è collegato con noi telefonicamente, come ogni martedì, il caporedattore di Repubblica Bari, Stefano Costantini. Buonasera, ciao Stefano. Ciao a te e a tutti. Allora, noi abbiamo qui come ospiti dei pezzi importanti della CGL, a cominciare da Pino Gesmundo, che è il segretario generale, e da Asmi Giargiaui, che fa parte della segreteria, sempre della CGL, si occupa di tematiche di immigrazione perché abbiamo voluto dedicare l'apertura del nostro appuntamento con l'informazione serale proprio all'immigrazione. Tu sai che oggi pomeriggio c'è stato questo referendum sull'operato dell'amministrazione comunale. Emiliano ha avuto, insomma, c'è stato un plebiscito per lui. Credo l'abbiate seguita anche voi, immagino è una tematica importante. Però dimmi tu. No, sicuramente l'immigrazione è una tematica così importante che il nostro giornale dedica ogni mercoledì una pagina, una rubrica che si chiama Metropoli e che dunque affronta le questioni che riguardano gli immigrati, nel senso che evidentemente è una pagina di servizio per gli immigrati ma anche di informazione per i cittadini per cercare di coniugare le varie esigenze e per cercare di convivere con una realtà che ormai sempre è più diffusa. Quindi fa piacere che il sindaco Emiliano e l'amministrazione comunale sia così apprezzata da chi ha riposto al sondaggio e dunque questo mi fa piacere ma neanche mi meraviglia perché Bari è una città comunque notoriamente, una città tollerante e dunque non ci sono grossi problemi di immigrazione anche perché la quantità, immagino l'avrete già detto, la percentuale di migranti nel nostro paese al di là di quelli che arrivano sulle coste che creano questa emergenza soprattutto umanitaria, per il resto quelli che sono stanziali in Puglia sono delle cifre tutto sommato molto modeste rispetto ad altre regioni italiane, quelli che si fermano in Puglia e dunque anche le problematiche sono commisurate diciamo alla loro presenza. Stefano però il problema, ne accennavamo prima soprattutto con Giargiaui, è un po' la mentalità da parte di noi italiani rispetto alla presenza e alla compresenza, alla condivisione con gli stranieri. Forse lì il salto, l'amministrazione comunale, anche quella regionale probabilmente l'ha fatto, molti pugliesi forse no. Io ti ripeto, sui giorni non registriamo episodi gravi che possono registrarsi in altre regioni a più alto tasso di migrazione, di presenza di immigrati, quindi sinceramente non credo che sia un problema pugliese in particolare, ripeto c'è una tolleranza mi sembra abbastanza diffusa nei confronti, certo poi ci sono dei casi in particolare quando ci sono delle rivolte per esempio nei centri di accoglienza o perché succedono, perché ci sono delle concentrazioni di immigrati in una particolare struttura, come può essere un Cio, un Cara e dunque si possono creare queste situazioni, ma la normale vita della popolazione di Pugliese con gli immigrati stanziali non mi sembra che abbia particolari problemi, dalla mia esperienza personale non mi sembra, e anche come giornale non registriamo episodi particolarmente gravi. Siamo d'accordo, ma non stavamo parlando di razzismo o atti di questo genere, per carità questo non accade, insomma può confermarne anche già già. Abbiamo aperto poi con un'altra notizia che è quella della grossa operazione della Guardia di Finanza che è stata sgominata, una organizzazione internazionale che portava queste migliaia di container in Cina di gomma pneumatici e poi tornavano come prodotti di plastica, insomma una grande operazione che come ha detto anche il procuratore di Lecce, ho visto nel vostro servizio, ho ripreso dal vostro servizio, coinvolgeva molte regioni, la Puglia era il terminale diciamo così la testa di ponte per spedire questo materiale nel sud estasiatico, in Cina in particolare, poi con l'aspettativa di riportarci indietro contaminato questo materiale trasformato in ahimè purtroppo prodotti soprattutto destinati ai bambini, quindi questa è la cosa che mi sembra più grave, quindi di questo siamo sicuramente contenti che si sia fatta questa operazione della finanza. Noi nel nostro telegiornale più avanti ovviamente parleremo di sanità, di regione e così via, domani tu con Repubblica con che cos'ha? Noi apriamo sulla sanità, nel senso che apriamo su quest'allarme lanciato da Vendola perché c'è questo rischio della corsa alle pensioni e come sappiamo queste misure del nuovo governo faranno scattare una corsa alle pensioni per chi potrà, per chi ha i requisiti e quindi soprattutto oggi l'allarme sugli ospedali perché come sappiamo è bloccato il turnover, quindi di tutte queste persone soltanto un quarto potrà essere sostituita e questo può creare in una situazione già grave come quella della sanità in Puglia, una situazione grave anche dal punto di vista del personale, questo potrebbe aggravare ulteriormente lasciando scoperti interi reparti, quindi c'è una richiesta forte da parte dell'amministrazione regionale e dal governo di sbloccare almeno la possibilità di attivare il turnover per una misura maggiore rispetto a quella consentita oggi, quindi questa per noi oggi è la domani sarà l'apertura del giornale e dedicheremo un'ampia parte anche alla questione dei treni che è un'altra questione regionale molto importante, abbiamo un'intervista con la D di Ferrovie con Moretti in cui spiega le loro ragioni e spiega anche quello che stanno facendo e cosa hanno potuto attivare dopo questa protesta e queste campagne giornalistiche a cominciare dal nostro giornale ma anche altri giornali e anche altre televisioni che hanno dato molto spazio a questo che è uno dei problemi più seri di questa regione, soprattutto in vista di un auspicabile sviluppo e non può esserci sicuramente su questo fronte nessun cedimento, quindi le nostre battaglie in qualche modo sono state in piccola parte almeno accolte dalle ferrovie e Moretti domani ci spiega come sono state accolte. Va bene, grazie Stefano per il tuo intervento come sempre, grazie e buon lavoro. Allora, per la regione sospendiamo perché ne parleremo più avanti, l'abbiamo già accennato, sono le tematiche a cui faceva riferimento appunto Stefano Costantini, io vorrei riprendere questo discorso della sicurezza, perché abbiamo parlato di questi giocattoli cinesi che ritornano in Italia, però c'è un altro problema che è quello della sicurezza anche dei prodotti alimentari. Allora, oggi si è parlato proprio di etichettatura di prodotti alimentari, delle nuove normative europee in materia, in un seminario che è stato organizzato a Bari da Confindustria Bari e Batta. L'incontro, aperto agli imprenditori, c'era anche il responsabile comunitario di Federa Alimentare, vediamo. Informazioni più chiare, etichette più trasparenti, pubblicità più veritiere, ma anche nuove regole su origine dei cibi, ingredienti usati e caratteristiche nutrizionali dei prodotti, tra i quali quantità di grassi, sale, zuccheri ed eventuali allergeni. Di questo e delle nuove norme in materia di etichettatura degli alimenti si è parlato a Bari nel seminario organizzato dalla sezione agroalimentare di Confindustria di Bari e Batta. Un momento formativo e informativo per gli imprenditori locali che operano in particolare nel settore della pasta, dell'olio e del latte, al quale ha partecipato anche Dario Dongo, responsabile legislativo, giuridico nazionale e comunitario di Federa Alimentare, la Federazione Italiana dell'Industria Alimentare. Vi sono alcune novità rispetto alla disciplina a cui siamo abituati sino ad oggi, in particolare per quanto riguarda l'etichettatura nutrizionale perché d'ora in avanti, nei prossimi anni quando queste regole entreranno in applicazione, avremo tabelle nutrizionali su tutti i prodotti alimentari o quasi, quindi i cittadini potranno anche iniziare a portare attenzione a quanto assumono, a quante calorie assumono, alle proteine, ai carboidrati, ai grassi, quindi fare anche delle scelte più attente. Dovremmo indicare i contenuti, dovremmo indicare grassi, dovremmo aumentare la grandezza dei caratteri, insomma bisognerà organizzarsi ben bene. Ci sarà una prima scadenza tra tre anni, ci saranno decreti attuativi che sono in corso di discussione nei prossimi mesi barra anni, non dovrebbero stravolgere la norma per come è stata pensata dal legislatore, potrebbero esserci delle piccole modifiche ma l'infrastruttura di base non cambierà. Beh, questo delle etichettature, della tracciabilità è comunque… Speriamo che prima o poi si arrivi a fare questo, il problema è il sistema dei controlli poi, perché poi chi non applica le leggi poi deve essere sanzionato, qualcuno deve controllare e bisogna capire se chi deve controllare è nelle condizioni di farlo, questo è il rischio. Allora, stiamo parlando ormai da giorni, insomma da domenica sera possiamo dirle, di manovra Salva Italia, di manovra Lacrime e Sangue, la CGL con la Camus si è già espressa ampiamente, ci sarà uno sciopero insomma lunedì prossimo, una manifestazione anche a Bari, sentiamo un attimo uno stralcio di questo intervento della nostra direttora Anna Maria Ferretti e poi apriamo la discussione anche su questo argomento. Nonostante l'iniquità diciamo che nessuno ha il coraggio di tirarsi indietro all'approvazione di questa manovra, addirittura non ci si sottrae perché se ne intravede una utilità, oggi titolano così tutti i quotidiani online, per questo è bene che i politici e i sindacati che già hanno previsto uno sciopero non perdano di vista gli umori del popolo che seppur penalizzato nella sua maggioranza sta lanciando segnali precisi, non bisogna tirarsi indietro dunque e bisogna andare avanti, ad esempio i seguaci di Antonio Di Pietro che nonostante la presa di posizione del loro leader ritengono che la manovra debba essere approvata ed anche in fretta subito, sinceramente lo crediamo anche noi, siamo convinti che la medicina sia molto amara, che non piaccia affatto ma che i suoi ingredienti, elementi possano far guarire il malato, bisogna dunque ingerirla e digerirla pure. Allora dobbiamo ingerirla e digerirla Gesmundo? Che ci fosse l'esigenza di fare una manovra, un'ennesima manovra in questo paese, non è l'unica manovra, questa è un'altra manovra che si aggiunge alle precedenti manovre, è un dato diciamo inequivocabile, indiscutibile, lo diciamo da tempo che le manovre del governo che il governo metteva in piedi non erano sufficienti, il punto è quale manovra? Sappiamo tutti che c'è da pagare un prezzo ma perché questo prezzo lo devono pagare sempre le solite persone, soprattutto questa manovra si scarica sulle fasce medio-basse dei cittadini di questo paese, beh questa è una cosa sulla quale si può discutere, poi nessuno vuole mandare a casa immediatamente questo governo, ci mancherebbe altro, ma non so i dati del direttore, anche perché non possiamo mandarli tutti a casa, però a noi invece abbiamo dati diversi, il popolo è arrabbiato, certo è responsabile, responsabilmente arrabbiato, mettiamola così ma non è che accetta questa manovra in maniera tranquilla. Aselli puoi lanciare anche questo, ma allora il popolo, almeno quello di internet, è arrabbiato la brava, allora ci darai le risposte così avremo anche il nostro mini sondaggio, ma io quello che le chiedo, Gesmondo, lo chiedo anche ovviamente a GiaGiawi, non è pericoloso per certi aspetti subito partire con lo show però il lunedì contro questa manovra? Posso dare un dato? Certo, è qui per questo. No, insomma riflettiamo, Cisle e Will che erano i sindacati che sostanzialmente in qualche modo erano i sindacati responsabili, hanno immediatamente dichiarato due euro di sciopero prima della Cigelle, questo è vero, però voi ne avete fatte quattro, noi ne abbiamo fatte quattro, noi facciamo questo sciopero perché vogliamo dare il segnale forte che c'è un paese che non ce la fa più, che non riesce più a sopportare questa manovra, non perché non vuole, perché non è responsabile, ma perché non è più nelle condizioni di farlo, è perché è un dato diciamo oggettivo, si paga e pagano sempre i soliti. In pratica per esempio l'ICI o IMU come si chiamerà adesso, cioè l'ICI più tarso, voi l'avreste rimessa in circolazione o no? Il punto è la manovra complessiva, che cosa si fa? Ma se non si fa una patrimoniale... Le cose che fanno più male sono l'ICI e le pensioni, no? L'ICI e le pensioni, sulle pensioni stiamo ragionando sempre sulle fasce medio-basse, stiamo dando una bella botta a chi da anni versa contributi, poi probabilmente in questa logica i giovani in qualche modo non sono vittime di questa manovra perché di fatto loro non avevano il diritto in qualche modo, ora abbiamo pure problemi a capire se arrivano o meno la pensione. Esatto, se lavorano... Però c'è chi ha versato contributi e lavora da tempo che deve continuare a lavorare molti più anni, da una parte. Dall'altra parte non si capisce perché non si possono tassare i redditi alti, perché non si può aumentare per esempio la liquida sui patrimoni scudati, perché non si mette una patrimoniale seria, perché non si fa una vera lotta all'evaluazione fiscale, rispetto a questo non c'è nulla, però c'è solo tagli e non si capisce come in questo paese, da questo paese si esce dalla crisi, dalla crisi si esce con lo sviluppo, investimenti sullo sviluppo, sul lavoro, se non c'è lavoro, se non c'è sviluppo, non ci sarà occupazione, non c'è un'economia che si rimette in movimento, c'è poco da fare. Giorgiavi? Sono d'accordissimo, altro che... Non perché sei il solito, perché sei l'Italia... Potrebbe dire il contrario in questo caso. Assolutamente, anzi, dico di più, l'Europa non ci chiede queste misure, l'Europa ci chiede degli obiettivi e noi dobbiamo raggiungere e possiamo raggiungere anche utilizzando altre misure. La testa sulle grandi ricchezze che sta in Francia può benissimo essere fatta anche qui, che produce 18 miliardi, ma la baga non solamente il 5% dei cittadini e la baga chi ha una ricchezza, un patrimonio superiore all'800 mila euro, calcoli fatti dall'IRSGL, quindi se possono fare altre cose. Secondo voi, ultima domanda, prima di andare in pubblicità, nelle commissioni, insomma in Parlamento, quando approderà, fra qualche giorno, insomma, ci potranno essere dei ritocchini? Speriamo di sì, so che si stanno preparando delle schede, la CGL sta preparando delle proposte, c'ha 9 punti all'ordine del giorno che vuole proporre al governo in termini di cambiamento, speriamo si possa arrivare a modificarla questa manovra, perché così davvero la gente non ciò per più. Maselli, so che stai chiacchierando con la nostra assistente di studio, però ci devi dire se dalla rete c'è arrivato già qualcosa o no? No, io credo che i nostri amici internati stiano riflettendo, perché in tanti hanno messo il mi piace, per chi conosce Facebook sa che vuol dire, sugli argomenti che abbiamo proposto, ma nessuno commenta ancora, forse stanno meditando, la risposta giusta. Va bene, allora dal mi piace al commento dobbiamo passare, intanto la linea per qualche secondo alla pubblicità, fra poco. Seconda parte di Antenna Sera ben ritrovati ai nostri amici telespettatori, nonché a quelli che ci seguono invece in streaming sul sito, su antennasud.com o sulla pagina di Facebook di Antenna Sud, di Antenna Sud su Facebook, pardon. Allora, detto questo, riprendiamo nella seconda parte, nella prima abbiamo parlato di immigrazione, in particolare un sondaggio che c'è stato oggi pomeriggio, l'abbiamo fatto qui con i nostri ospiti studio, Asmi Jarjawi, sempre della CGL, e Pino Gesbundo, segretario generale. Adesso però vogliamo parlare di sanità, perché il 13 dicembre prossimo dovrebbe sciogliersi il nodo del piano di rientro sanitario della Regione Puglia, una questione fondamentale che il Presidente dell'Aggiunta regionale pugliese, Vendola, spera di poter risolvere. Sentiamo come in questa intervista realizzata da Rosy Coviello. Un'altra questione è quella della sanità, lei dice speriamo che il 13 questo piano di rientro finalmente passi, perché altrimenti sono guai. Insomma, no, altrimenti ci arrabbiamo, perché non c'è più alcuna ragione, diciamo, per tenere appeso il piano di rientro della Regione Puglia, veramente non c'è più alcuna ragione, quindi vorremmo chiudere rapidamente questa questione, vorremmo avere le risorse che ci sono state congelate e vorremmo poter avere un tavolo vero che ci indichi le possibili deroghe a quel blocco del turnover che in sanità è drammatico. Vanno in pensione le persone e noi non possiamo assumere coloro che le sostituiscono. Ora, con la riforma delle pensioni del governo Monti, molti medici, primari, infermieri avranno voglia di fuggire dall'attività produttiva e noi non abbiamo la possibilità di sostituirli. E chi va negli ospedali? E chi tiene in piedi i reparti? Cioè, bisogna capire quali sono le conseguenze. Capisco che c'è una retorica straordinaria, no? I diritti dei giovani e i diritti dei vecchi. No, no, qui si fanno interventi che rischiano di far collassare, per esempio, il sistema sanitario. Allora, Gesmundo, insomma, c'è qualche speranza che si possa risolvere? Perché qui rischiamo di restare senza medici, senza infermieri, insomma, no? Possiamo dire che già oggi la sanità pugliese è in grave dramma? Che già oggi si fa grande fatica ad assicurare il servizio sanitario che è un diritto costituzionale ai cittadini della Puglia? Possiamo dire che una serie di norme che hanno incastrato, perché non c'è altro termine per definire la regione Puglia rispetto alla possibilità di fare delle assunzioni impedisce oggi a molti professionisti di svolgere la propria attività in maniera professionale. C'è un disastro di questo tipo in regione Puglia. Queste norme aumenteranno e aggraveranno la situazione, dopodiché il piano di rientro, i conti stanno tornando rispetto al piano di rientro, rispetto a quello che ci ha chiesto il Ministero dell'Economia e il Ministero della Sanità, ma c'è da investire adesso rispetto a quel piano. Quel piano ha tagliato, ha tagliato posti letto, ha tagliato posti di lavoro, non ha consentito investimenti in sanità. Abbiamo una sanità adesso, dopo il piano di rientro, speriamo passi, che va ricostruita in Puglia. Va rifatta. Va rifatta. Allora sulla sanità si è espresso oggi, anche in particolare sull'operato di Vendola, il capogruppo in regione Salvatore Greco, il capogruppo della Puglia prima di tutto, ha presentato una serie di interrogazioni per capire anche la situazione riguardo a stabilizzazioni e internalizzazioni. Sentiamo questo lungo resoconto di Mauro De Nigris. La Puglia prima di tutto va all'attacco del governatore Anichi Vendola e dell'assessore regionale alla salute Tommaso Fiore. Dopo aver presentato una serie di interrogazioni, il capogruppo Salvatore Greco ha convocato la stampa per fare il punto sulla situazione. Molte le questioni sul tappeto, dalle stabilizzazioni del personale sanitario al processo di internalizzazione dei servizi sanitari. Sul tema delle stabilizzazioni, ha detto Greco, l'Aggiunta regionale sta bleffando, scarica sul Governo nazionale o addirittura sul Parlamento la responsabilità di emanare un provvedimento che tolga le castagne dal fuoco, ma chi ha fatto il danno è Vendola e lui soltanto può e deve tirar fuori dal dramma centinaia di famiglie. Temiamo che il ruolo politico di Vendola, leader di un partito di opposizione a questo governo, possa danneggiare la Puglia. Per questo gli ho chiesto di fare il presidente della regione, non soltanto il politico nazionale. Per Greco la soluzione è nelle possibilità della Giunta per due motivi. Intanto è stata raggiunta emanare una delibera che ha dato l'indirizzo alle ASL costringendole a licenziare i dirigenti medici che erano stati stabilizzati, in virtù di una legge che Vendola ha fortemente voluto e che la Corte Costituzionale ha bocciato. In secondo luogo la chiave di soluzione è legata ad un adempimento che le ASL tardano ad aspettare, ovvero la revisione delle piante organiche. La sentenza della consulta aggiunge, non obbliga all'annullamento dei contratti, spetta all'ASL valutare se ha ancora bisogno di quel personale e confermare o meno i contratti sulla base delle proprie esigenze. Sono pertanto essenziali le piante organiche. Le sentenze dei giudici del lavoro stanno condannando la regione al reintegro dei medici licenziati e stanno riconoscendo loro un risarcimento del danno pari a 5 mensilità, ovvero oltre 30.000 euro ciascuno. Se tutti facessero ricorso per la regione, significherebbe sborsare 9,5 milioni di risarcimento. Si potrebbero bandire concorsi pubblici che assegnino punteggi di favore e quote riservati a chi aveva maturato il diritto alla stabilizzazione. La situazione di allarme personale riguarda anche gli infermieri. I vertici delle ASL pugliesi ormai viaggiano a vista. Attivare la mobilità extra-regionale quando ci sono oltre 1.000 infermieri precari che nella sola provincia di Bari hanno visto non rinnovato il proprio contratto è uno dei provvedimenti irrazionali che le ASL stanno emanando nelle ultime settimane. A proposito delle internalizzazioni, quando è stato deciso che si doveva procedere alla internalizzazione dei servizi di pulizia, ausiliariato, portierato, ci è stato detto, aggiunge Greco, che questo avrebbe comportato un risparmio per le casse regionali. In realtà così non è. Secondo uno studio il maggior costo per le ASL sarebbe variabile tra il 115 e il 156%. Quel che è peggio è l'espulsione dal mondo del lavoro di centinaia di lavoratori che erano stati assunti dopo il 31 dicembre 2009. La legge non consente l'assorbimento da parte delle società in house, ma avrebbero continuato tranquillamente a lavorare se fossero rimasti con il contratto a tempo indeterminato che avevano e che in virtù della clausola del cosiddetto articolo 4 sarebbero passati da una cooperativa all'altra, avendo nel frattempo acquisito il diritto alla titolarità di postazione dopo quattro mesi di servizio. Oltre a questi rimangono senza lavoro quelli che nelle cooperative svolgevano funzioni di quadro, funzioni dirigenziali, i responsabili di postazione, i coordinatori di servizio. La Puglia e il rapporto spesa-pil conclude Greco, tre più alti d'Italia, malgrado negli ospedali ci siano meno medici e infermieri rispetto alla media nazionale per mille abitanti. Il numero di morti sospette per mala sanità è triplo rispetto al resto del paese. Questa è la regione dove si spende di più per farmaci, dove il tasso di ricovero ordinario è il peggiore d'Italia e dove l'Aggiunta ha evitato il commissariamento per qualche milione di euro. Allora, Gesmundo, l'Aggiunta avrebbe ordinato ai direttori delle ASA di liberarsi, ci sono delle cose su cui lei aveva... Noi su questo ci abbiamo fatto tutta una battaglia. Stiamo parlando di medici precari che sono stati stabilizzati a seguito di concorso dopo un lungo periodo di lavoro precario. A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, questi medici sono stati licenziati. Sono stati licenziati perché? Perché poi bisogna ripristinare un minimo di correttezza storica del processo che è avvenuto in questo senso. C'è stato il governo che ha approfittato, inserendo un codicillo in una manovra, che ha obbligato le amministrazioni pubbliche, i dirigenti pubblici ad applicare immediatamente le sentenze della Corte Costituzionale. In alternativa ci sarebbe stata una sanzione nel confronto del dirigente. Noi abbiamo chiamato quella lì una norma ad persona a Puglia perché era stata suggerita a nostro avviso da chi conosceva bene la vicenda della Puglia. Dopodiché se adesso il centrodestra, la giunta regionale in maniera bipartisan vogliono salvare questi lavoratori che sono stati stabilizzati, ribadisco e sottolineo, dopo un lungo periodo di lavoro a tempo determinato, dopo aver superato un concorso che sono oggi indispensabili per garantire il servizio sanitario nazionale, siamo perfettamente d'accordo, lo facciamo domani mattina. Forse Salvatore Greco dovrebbe spiegarlo a chi ha fatto quelle norme. Dovrebbe parlare con l'ex ministro della Funzione pubblica si era rifiutato di fare una norma che avrebbe salvaguardato e salvato tutti questi precari. Poi c'è tant'altro da dire. Vabbè ma ce ne avremo altro perché è stato, questo è un altro argomento, vicino insomma, è quello che oggi è stato firmato, il protocollo d'intesa fra Regione Puglia e organizzazioni sindacali sulle politiche del personale regionale, un'intesa morale così l'ha definita il Presidente Vendola. Sentiamo. 2400 i lavoratori a tempo indeterminato, 230 quelli a tempo determinato, molto meno di 3000 dipendenti che fanno della Puglia una Regione virtuosa. Nonostante questo è necessario rivedere le politiche del personale soprattutto per cercare di adeguarle a quelli che sono i fabbisogni attuali. Di qui la firma di un protocollo d'intesa fra la Regione e i sindacati perché insieme si possa trovare una soluzione sia per i nuovi assunti che per tutelare quelli che già ci sono. Infatti bisogna considerare che la Regione ha alcuni problemi da risolvere, fra questi quello dei 561 dipendenti retrocessi. Nessuna attività da parte della Regione Puglia, assicurato Davide Pellegrino, direttore dell'area politica per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione, sarà indirizzata nella sostituzione dei 561 dipendenti. Le loro attività infatti saranno salvaguardate. In questo momento, ha concluso Pellegrino, la Regione ha bisogno di fornire servizi di eccellenza ai cittadini. Un'intesa morale e politica, la definita il Presidente della Giunta regionale pugliese, Nichi Vendola, quella siglata con i sindacati. Siamo impegnati su tutti i livelli per trovare una soluzione, ha continuato Vendola, perché per noi è importante capire anche cosa sarà dei dipendenti a tempo determinato. Professionalità che la Regione non intende perdere. Per i sindacati, la firma del protocollo, nel quale c'è anche l'invito ai parlamentari pugliesi a promuovere un'idonea norma nazionale finalizzata a salvaguardare le posizioni dei lavoratori e le funzionalità dell'ente regionale, è la dimostrazione che anche in momenti di difficoltà possono nascere opportunità importanti. Beh, insomma, è un accordo importante perché qui c'è il rischio di paralisi per la Regione Puglia. Stiamo parlando di centinaia di lavoratori, peraltro quelli precari della Regione Puglia, molti precari, la stragrande maggioranza, laureati, master, professionalità importantissime che stanno attraendo in Regione Puglia importanti finanziamenti della comunità europea. Lavorano su questo e su questo la Regione Puglia fonda una gran parte delle proprie politiche. Rischiano di andare a casa se non si fanno degli accordi perché, poi bisogna ricordarlo, perché c'è tanto precariato. Non è che qualcuno ha deciso ad un certo punto che la Regione Puglia si assumevano soltanto precari. C'era l'impossibilità a fare assunzioni a tempo indeterminato perché c'era un governo, quello precedente, che aveva bloccato le assunzioni. E quindi l'unica modalità per fare assunzioni era quella con lavoratori precari, atipici e svariate forme di lavoro. Oggi vanno salvaguardati quei lavoratori perché sono veramente una risorsa per il Paese di professionalità acquisite e di competenze che altrimenti perderemmo. Allora, adesso parliamo un attimo di banche perché c'è giunta oggi una notizia davvero interessante. Un cittadino di Altamura aveva investito in bond argentini una decina di anni fa e qualche giorno fa il Tribunale di Bari ha condannato una banca primaria nazionale a risarcire il cittadino che aveva perso così i suoi risparmi. Il Tribunale di Bari ha infatti riconosciuto che l'operazione di investimento non era adeguata al profilo di rischio dell'investitore. La banca aveva dato corso all'operazione nonostante la mancata informazione e la mancanza dello specifico ordine impartito per iscritto. Le obbligazioni emesse per 300 milioni di euro non ovviamente solo per prese comprate dal singolo cittadino ma da una platea di 8 mila risparmiatori. Il consumatore pugliese, tra l'altro assistito dal Massimo Melpignano, vicepresidente dell'Adusbef, sarà risarcito con la somma di 25 mila euro. E questo è un buon precedente anche per tutti gli altri risparmiatori che hanno fatto investimenti analoghi. Bliss della Guardia di Finanza ad Altamura. Tre arresti, fra cui quello del comandante della stazione dei Carabinieri, il fascicolo e quello dell'antimafia barese, sui presunti intrecci fra mafia e politica nella murgia barese. Indagati a Pide Libero anche due avvocati, uno dei quali ex assessore altamurano. Ci dice tutto, Isabella Maselli. Intrecci tra mafia e politica ad Altamura. L'antimafia chiude il cerchio sul clan d'Ambrosio fino alla data dell'omicidio del boss Bartolo, ucciso nelle campagne alla periferia della città il 6 settembre 2010. Militari del GICU hanno arrestato all'alba tre persone, tra cui il comandante della stazione dei Carabinieri di Altamura, Nicola Lo Giudice, a cui sono stati concessi i domiciliari. In carcere, invece, il 44enne Giuseppe Antonio Colonna, detto il fighetto, e il 39enne Mario D'Ambrosio, fratello del defunto boss. Per il maresciallo dei Carabinieri Massimo Carotenuto, rigettata la richiesta d'arresto e fissato l'interrogatorio per l'interrogazione di perdizione dal servizio. Rigettate altre sette richieste di misura cautelare, tra cui quelle a carico di due avvocati altamurani, il 53enne Vincenzo Siani e il 36enne Vito Zaccaria, entrambi impegnati in politica che avrebbero favorito la presunta associazione mafiosa attraverso la loro attività di legali e di uomini vicini alle istituzioni. In particolare Zaccaria avrebbe offerto il proprio contributo consapevole, concreto, specifico e determinante, mettendo a disposizione del sodalizio la propria qualità di consigliere comunale ed assessore della giunta municipale di Altamura, in modo da garantire trattamenti privilegiati relativamente alle pratiche trattate dall'amministrazione comunale, compresi interventi presso funzionari e tecnici della stessa, in cambio di servizi forniti dall'associazione criminale, interventi violenti contro terzi che potessero nuocere la sua carriera politica e favori elettorali. I riati contestati dall'antimafia sono a vario titolo associazione mafiosa, lesioni personali, violenza privata, istorsione, usura, detenzione e porto di armi da guerra con relative munizioni e sostanze esplodenti, simulazione di reato, favoreggiamento personale e frode processuale. I fatti contestati si riferiscono agli anni 2001-2010. Le indagini hanno evidenziato una rigida scala gerarchica che partendo da Bartolo D'Ambrosio attraverso il fratello Mario e Giuseppe Colonna arriva ai ragazzi del circolo Puerto Libre di Altamura, gestito proprio da Mario D'Ambrosio. Il circolo è indicato dall'accusa come una sorta di sede sociale del sodalizio, la base operativa dove si custodivano denaro e armi. Nel fascicolo viene citato l'episodio in cui un avvocato altamurano si sarebbe rivolto a Bartolo D'Ambrosio per recuperare un credito nei confronti dell'impresario barese Ferdinando Pinto. Riferimenti anche ai servigi resi da un giudice di pace di Altamura in favore di Colonna, dei suoi raccomandati e di D'Ambrosio. Il giudice avrebbe fruito di alcune prostitute messe a disposizione in cambio dei suoi interessamenti. I reati di lesioni personali e violenza privata si riferiscono all'aggressione subita dal giornalista Alessio Di Palo il 5 luglio 2006. Reati questi contestati a Domenico Cicirielli, autista della società Tradecco e uomo di fiducia di Carlo Dante Columella, noto come il re dei rifuti della Murgia. Ai due carabinieri, tra cui il maresciallo lo giudice finito ai domiciliari, si contesta il favoreggiamento per non aver segnalato che, diversamente da quanto imposto dagli obblighi cui era sottoposto, Bartolo D'Ambrosio non si recava in caserma per firmare l'apposito registro, dichiarandone al contrario la buona condotta. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di cose più belle, più gradevoli. In occasione del dicembre in musica i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Bari e provincia hanno assistito a un concerto del Teatro Petruzzelli di Bari, nel teatro dell'orchestra della fondazione presentatore, giustamente Antonio Stornaiolo. Vediamo. Logione, platea, palchi. Per una mattina gli alunni delle scuole primarie e secondarie di Bari e della provincia hanno abbandonato le loro aule per assistere ad una lezione di musica nel Teatro Petruzzelli di Bari in occasione del dicembre in musica. Ad affascinarli non solo la bellezza del politiamo abbrese ma anche e soprattutto la musica, quella dell'orchestra sinfonica che ha eseguito Mozart, l'over tour dalle nozze di Figaro, Rossini, l'over tour dall'italiana in Algeria e la Cenerentola e di Bizet alcuni atti tratti dalla Carmen. Per nulla annoiati prima del concerto ai ragazzi è stata spiegata la composizione di un'orchestra dal direttore Gregorio Goffredo ed Antonio Stornaiolo che con la sua simpatia ha reso piacevole il matinè e ha coinvolto ancora più i ragazzi. Tre, ha spiegato il maestro Goffredo, sono le grandi famiglie che compongono l'orchestra. La prima è quella degli strumenti ad arco con i violini, le viole, i violoncelli e i contrabassi. La seconda è quella degli strumenti a fiato con i flauti, l'oboe, i clarinetti e i fagotti, i corni, le trombe e i tromboni. La terza è quella delle percussioni. Archiviare il fascicolo sul procuratore di Bari Antonio Laudati è accusato dal PMCelsi di aver rallentato l'inchiesta sulle escort che l'imprenditore Gianpaolo Tarantini portava nelle residenze di Silvio Berlusconi. Secondo la prima commissione del CSM mancano i presupposti per un suo trasferimento d'ufficio. A proposito di Laudati, nel pomeriggio, qualche minuto fa, il nostro Carmelo Palumbo ha seguito la premiazione del Nicolino Doro, è stato premiato anche il Presidente del Tribunale di Bari Vito Savino e a questo proposito sentiamo questo stralcio di intervista. Proprio oggi c'è stata l'archiviazione della posizione del procuratore Laudati, si sente di commentare questa cosa. Io ritengo che le valutazioni giudiziarie del Consiglio Superiore vadano accettate. Il Consiglio Superiore ha valutato la posizione di Laudati, ha detto di archiviarle e sono contento per lui, anche perché è importante che ci sia serenità e non tensione per i capi degli uffici. Perché archiviazione con critica? Io non conosco con precisione, il problema in questi termini è stata proposta davanti alla prima commissione una sorta di incompatibilità ambientale. In seguito a valutazioni dei giudici amministrativi per profili disciplinari non è possibile l'incompatibilità ambientale, bisogna passare attraverso il procedimento disciplinare con tutte le garanzie del procedimento disciplinare. Non conosco nel dettaglio il provvedimento, non so quali sono state le critiche mosse al collega. Isabella Maselli, allora tu che bazzi che insomma le procure, le aule giudiziarie, qual è stato oggi il clima rispetto a questa notizia? Se hai colto qualcosa? Ma abbastanza sereno, del resto come quello degli ultimi giorni, anche perché della richiesta di archiviazione già si sapeva, per cui le tensioni di qualche tempo fa si erano già smorzate negli ultimi settimane. Del resto la richiesta di archiviazione anche in questi termini, cioè parziale nel senso che la maggioranza ha chiesto l'archiviazione completa, la soluzione totale, invece due dei consiglieri hanno sollevato qualche critica all'operato del procuratore. Ecco questa situazione già si conosceva, era stato un mero rinvio quello ad oggi, quindi per ufficializzare la posizione del Consiglio Superiore della Magistratura, per cui nessun clima particolare in procura a Bari rispetto a questa novità. E invece per quello che abbiamo lanciato, che so, sulla manovra per esempio, sulla manovra Salva Italia c'è qualche reazione dalla rete? Sì, c'è Gianni che dice, alla faccia della crisi questa è una vera distruzione totale, come si può aumentare di colpo di 10 centesimi la benzina? E poi Tina dice, alcuni aspetti come l'iva o la benzina sono a mio parere eccessivi e squilibrati, colpiscono tutti indiscriminatamente. Di sicuro si poteva spingere di più sulla patrimoniale o con un taglio netto dei privilegi dei politici, ma il problema di fondo è che il governo tecnico, per quanto capace, è sotto lo schiaffo della politica, sotto lo schiaffo di gente in gran parte incapace e attenta solo ai propri privilegi. Grazie Isabella. Allora, Giorgiavi, insomma, non c'è alternativa alla reazione popolare, insomma, per quel po' che abbiamo sentito dalla rete... Ci dà ragione. Ci dà ragione. Non lo dico io, però, insomma, pare che... Noi abbiamo i nostri uffici che intercettano... Eh beh, il vostro osservatorio è chiaro, immagino che... Sono milioni e migliaia di persone iscritte che ci vengono a dire sta roba. Non va giù a nessuno. Assolutamente no. Anche perché non è equa. Noi avevamo detto che eravamo disposti a una manovra, ma doveva essere equa. Disposti a fare sacrifici, ma doveva essere equa. Questa cosa dei soldi scudati, delle risorse scudate con una tassazione del 1,5%. L'avevano già subita, una piccola tassazione, mi pare del 5%, se non ricordo male. 5%, adesso un'altra cosetta. Vogliamo parlare di che sono quei soldi che vanno fuori e poi ritornano. Che vogliamo, analizziamo che tipo di risorse vanno fuori e poi ritornano. Maseli, c'era qualche altra cosa, mi hai fatto un segnale, c'è qualche altro intervento. Sì, a proposito degli extracomunitari sul diritto di voto. Fabrizio dice, secondo me è giusto che gli extracomunitari residenti in un determinato comune possano votare alle elezioni comunali e provinciali. In giusto sarebbe farli votare alle elezioni politiche e poi commenta il diritto di cittadinanza che dice che è un diritto che va acquisito nel tempo e non per il semplice fatto di essere nati sul nostro territorio. C'è un parere un po' critico, dice sì alle comunali, però politica no. Perché? Vabbè, poi ce lo spiegherai. Vabbè, gli extracomunitari made in Italy, gente che non conosce il proprio territorio, Eritrei per esempio, che non sono mai stati in Eritrea, sono nati qui, non lo conoscono, bisogna spiegargli che sono Eritrei, made in Italy. Va bene, chiudiamo soltanto dicendo che la CGL partecipa ovviamente, insomma, promotore dello sciopero e c'è una manifestazione lunedì a Bari, ci saranno delegazioni che andranno pure a Roma oppure no? No, le manifestazioni sono territoriali, noi a Bari organizziamo una manifestazione con corteo e comizio in piazza Castello, peraltro il 9 siamo sotto piazza Prefettura con un sit-in. Quindi il 9, il 7, il venerdì, lo sciopero e quindi la manifestazione con corteo. Va bene, io ovviamente ringrazio i nostri graditi ospiti, Asmin Giargiaui e Pino Gesmundo della CGL, grazie anche a Isabella Maselli che ci ha fatto compagnia e ha fatto da tramite con la rete, è tutto, l'appuntamento con l'informazione domattina alle 7 e mezzo, 7.25 con Giavito Caforo e la segna stampa, alle 13.25 con Anna Maria Ferretti e Antonio Stornaio, noi ci vediamo come sempre domani sera alle 20.15, grazie e buona serata. Grazie a tutti.